ciao a tutti oggi vediamo questi due tagliaunghie si tratta di tagliaunghie in acciaio inox prodotti in italia a premana una località della valsassina in provincia di lecco dove sono esperti in lame questo è un tagliaunghie in acciaio inox con una limetta all'interno vediamo che ci sono di due misure questo è quello un pochino più grande e in particolare è otto centimetri e mezzo in totale quindi è molto adatto per unghie robuste generalmente maschili ma anche unghie dei piedi ha un taglio perfetto e una filatura altrettanto perfetta questa invece è la misura più piccola è identico ma più piccolo e in particolare è 6,4 cm questo è più adatto per le unghie delle mani da tenere in tasca molto compatto hanno questa parte finale zigrenata che serve anche per un'impugnatura ergonomica molto comoda e nella parte posteriore c'è una sorta di asola proprio per andare a inserire eventualmente una cordicella sono stati prodotti dalla ditta pomoni come dicevo di premana è una ditta artigianale che produce taglia unghie ma non solo forbici e attrezzi per manicure e pedicure troverete tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com io vi aspetto per i prossimi video ciao a tutti a presto